La vita come arte dell'incontro. Il modello del nostro incontro è il come di Gesù ci ha incontrato e continua a incontrarci ogni giorno, ogni momento, anche in questo preciso istante della nostra esistenza, della tua e della mia esistenza. E questa capacità del cuore chiaramente di lasciarci incontrare da Cristo crea poi un cristiano che si lascia incontrare dagli altri. E questo lasciarci incontrare dagli altri diventa chiaramente qualcosa che attrae le altre persone. Un sorriso, un cuore felice, un cuore semmai trafitto dal dolore ma animato, che batte dalla e nella speranza, è un cuore che sa attrarre, è una testimonianza che sa attrarre gli altri. Ed ecco perché, qui riprendo la citazione di ieri, di Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito, che disse che la Chiesa non fa proselitismo, ma la Chiesa deve agire per attrazione. E questa attrazione, questa capacità di attrarre gli altri, ci viene semplicemente dall'incontro con Cristo. Ma perché Cristo è il nostro modello? Perché pensiamo per un attimo alla croce, alla forma della croce, che è l'identità di noi cristiani, e l'identità non solo di noi cattolici, ma anche dei cristiani, di coloro che sono discepoli del Signore Gesù. La croce ha una dimensione verticale e una dimensione orizzontale. È necessario quindi che queste due dimensioni, cioè la dimensione verticale e la dimensione orizzontale, si entrino in simbiosi per poter essere non solo testimoni dell'incontro tra il verticale, cioè tra Dio e l'orizzontale, cioè la vita, l'uomo, noi, ma anche per imparare ogni giorno a diventare e a essere uomini dell'incontro. Dimensione verticale e dimensione orizzontale, sempre insieme. Noi molte volte ci limitiamo alla dimensione verticale. Prego, semmai vado in chiesa, quindi mi confesso, faccio la comunione, e poi la dimensione orizzontale, che può essere per esempio, prego, faccio la comunione, ma perdono? Prego, faccio la comunione, ma parlo bene degli altri? Prego, faccio la comunione, dico il rosario, ma aiuto chi ha bisogno? Prego, faccio la comunione, ma cerco di essere per l'altro motivo di gioia? Prego, dimensione verticale, dimensione orizzontale, sempre insieme. Questo è l'arte dell'incontro. Ci vediamo domani per il Pio TV Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!